Non vieni? Corrispondenza, lettere ai pazienti, forse si è beccata qualcosa da uno di loro. Copia tutto su una penna e andiamo via. Viaggi? Sai, sei andato all'estero di recente? Sono solo dei video, possono dirci dov'è stata. Azione! Beh, non è andata molto lontano. Aspetta! Sei bellissima. E tu sei nervoso. Non l'ho mai fatto prima d'ora. Io sì, fidati, ti piacerà. Ehi! Non è assolutamente rilevante. Non sapendo che cosa ha, non possiamo sapere cos'è rilevante. Già, magari fanno sesso su un cumulo di amianto. Vai a guardarlo. Se fossimo in casa di Estranei lo guarderemo. Dovresti comportarti diversamente, proprio perché sei suo amico. Ti senti bene? Non dovremmo curarla noi. Io do un'occhiata al bagno. Ecco. So. Grazie a tutti